buongiorno a tutti ben arrivati e ehm io sono Gianluca Finito del Formez vi eh presento la la schedetta del webinar di oggi e poi passeremo subito agli interventi che come vedrete sono molto articolati. Oggi vi presentiamo le attività del eh ambito A del progetto FASTA Piccoli Comuni a cui avete aderito. Ehm inizieremo con una introduzione con dei saluti da parte del dottor Gian Piero Salerno del Dipartimento della Funzione Pubblica. Eh daremo poi la parola alla dottoressa Clelia Fusco di Formez Pia che è la responsabile coordinatrice delle attività del progetto FASTA Piccoli Comuni che come vedremo si articola in tre ambiti e eh la dottoressa Fusco la coordinatrice della delle diverse attività. Entriamo poi nello specifico delle eh delle attività previste dall'ambito A a quello che si occupa della transizione digitale con la dottoressa Irene Torrente che ci parlerà delle attività di supporto alla transizione digitale previste proprio dal dal progetto. Eh avremo poi l'intervento della dottoressa Chiappe, Roberta Chiappe sempre di Formez Pia che eh ci presenterà le prime attività realizzate eh ad oggi e la distribuzione sul territorio dei eh comuni aderenti al a questo ambito del progetto. Deremo poi la parola al dottor architetto Gianfranca Andriola che eh ci presenterà la situazione eh del digitale dei duecentottantacinque comuni che hanno aderito e eh quindi vi presenterà eh i dati che abbiamo raccolto a través una eh un'analisi, un assessment che abbiamo fatto per capire qual è il bacino di eh di utenti a cui ci rivolgiamo. Daremo poi nuovamente la parola alla dottoressa Chiappe che ci presenterà invece entriamo un po' nel vivo delle attività che ci accompagneranno nelle prossime settimane nei prossimi mesi che ci parlerà quindi dei micro progetti di transizione digitale e delle modalità di organizzazione delle task force sul territorio. E infine come vi anticipavo prevediamo una sessione di eh domande e risposte eh a cui eh che dedicheremo per alle risposte che avremo raccolto durante alle domande che abbiamo raccolto durante il webinar e a quelle che vorrete rivolgere eh magari anche attivando il vostro o microfono. Allora al momento abbiamo superato ampiamente i cento i cento partecipanti quindi eh io direi che possiamo iniziare. Do la parola al dottor Salerno che invito ad attivare microfono in webcam lo vedo in video buongiorno dottor Salerno la sento anche. Buongiorno a tutti. Eh grazie ai colleghi del format dell'invito. Spero che oggi ti senta un po' meglio se non ti dovesse sentire naturalmente mi presenterete. Eh io ho il piacere di intervenire in questa seconda giornata di attività. Mi scusi non la sentiamo benissimo se può provare ad avvicinare il microfono e non allontanarlo troppo magari miglioriamo in questo modo. Proviamo. Se prova a tenere il microfono sempre alla stessa distanza perché quando lo. La sentiamo comunque era solo che allontanando il microfono eh. Scusate ci riprendo io la parola ovviamente il bello di la diretta diciamo in questi casi abbiamo fatto tutte le opportune prove prima dell'inizio della. Meglio? Meglio molto meglio prego le lascio la parola. Ah ok dovevo semplicemente comprare auricolari quello. Allora eh io ho il piacere di intervenire in questa seconda giornata di avvio delle attività innanzitutto per portarvi il saluto del nostro direttore il dottor Saurangeletti dell'ufficio per l'innovazione amministrativa alla formazione e lo sviluppo delle competenze eh di tutto il dipartimento della funzione pubblica. Oggi il progetto entra in una fase operativa eh che nelle nelle prossime settimane saranno messi in opera incontri di lavoro con tutti i comuni partecipanti all'iniziativa anche attraverso l'affiancamento da parte dei facilitatori selezionati dal Formez. Eh il mio intervento vuole essere finalizzato soprattutto a sottolineare quanto per il dipartimento della funzione pubblica il tema del rafforzamento dei piccoli comuni sia un tema centrale della nostra strategia di azione. Progetto importante per noi e lo dimostra il fatto che questa è l'iniziativa più grande che il dipartimento ha realizzato a valere sui fondi del fun governance e capacità istituzionale 2014-2020. Un progetto che complessivamente vale circa 42 milioni di euro eh ha come obiettivo quello di rafforzare il presente e il futuro dei piccoli comuni. Che l'obiettivo poi è quello di sostenere i piccoli comuni nella loro capacità amministrativa cioè nella capacità fare le cose subito eh di sostenere i progetti di innovazione e tutte quelle che sono le sfide di cambiamento rispetto alle quali tutti i comuni anche quelli più piccoli sono attesi. Eh noi sappiamo che l'Italia si fonda soprattutto sui suoi comuni. Sappiamo che ciascuno di questi comuni indipendentemente dalle sue dimensioni, dalla latitudine e dalla distanza che lo separa da un centro più grande è fondamentale perché eh in esso ci vive circa il 17% della popolazione italiana. Ecco per un territorio che se non sbaglio sembra che rappresenti quasi il 50% del territorio nazionale. Eh fino a un po' di tempo fa si parlava di piccoli comuni soprattutto da un punto di vista di spending review eh si pensava che i piccoli comuni fossero un problema, si parlava di fusioni obbligatorie eh si pensava che la soluzione a questo fosse un po' avere 5.000 piccole frazioni legate a quella che era un'entità più grande. Eh si tendeva a non capire che molte volte il piccolo comune in tanti territori rappresenta l'unica presenza dello Stato, il front office per cui avere un presidio dello Stato per ogni chilometro quadrato di territorio è fondamentale. Eh proprio per questo noi con questo progetto oggi noi mettiamo in campo una strategia che è basata su delle specificità organizzative e tecniche che sono proprie di questa istituzione perché è evidente che i piccoli comuni hanno delle specificità rispetto alle quali le altre istituzioni eh sono diverse e quindi hanno bisogno di interventi specifici. Eh ne hanno bisogno perché i piccoli comuni sono da sempre l'istituzione più prossima alla vita dei cittadini, quella che viene immediatamente percepita nella quotidianità, quella che viene chiamata molto spesso oltre le sue competenze a rispondere di ogni problema. E sappiamo come gli amministratori e i dipendenti dei comuni sono spesso chiamati a svolgere quotidianamente quello che è il lavoro più difficile che si è chiamato a fare, chi svolge l'attività amministrativa e chi svolge in genere l'attività che è quella di rappresentare i propri cittadini nelle necessità quotidiane. Sappiamo che questo è un impegno che non conosce pause e che molto spesso non può contare nemmeno sulle risorse necessarie per fare questo lavoro. Eh naturalmente la sfida è molto più impegnativa rispetto eh a un comune normale eh si dirige o amministra come i tuoi comuni sotto i 5 mila abitanti perché poi quelle risorse, quegli strumenti e quelle possibilità di dare risposte efficaci sono spesso addirittura inferiori. Eh il progetto eh del Formez fa parte di una strategia più ampia che viene chiamato rafforzamento della capacità amministrativa. Eh per noi significa semplicemente riuscire a risolvere i problemi. Eh il rafforzamento della capacità amministrativa passa fondamentalmente attraverso due cose. Attraverso le persone e le loro competenze che vanno rafforzate in modo da rendere i dipendenti dei comuni più abili nel seguire quelle che sono le innovazioni amministrative e procedurali che sono in continua evoluzione e che sono particolarmente impegnative soprattutto dopo le persone sono poche come nelle piccole amministrazioni. E poi ci sono gli strumenti e che di conseguenza gli strumenti per noi è proprio la letteralmente la capacità di stare dietro a tutte quelle innovazioni digitale in modo che la semplicità e l'erogazione dei servizi ai cittadini e alle imprese che sono sul territorio sia possibilmente quanto più efficace possibile. L'intervento di oggi del Formez affianca un intervento che è partito due anni fa e che è stato realizzato dal Lanci, messo in atto dal Lanci uguale nostro altro partner istituzionale e anche esso mira a cercare di dare ulteriori competenze ai dipendenti e rafforzare i comuni nella capacità di risposte ai cittadini e alle innovazioni che ci stanno venendo incontro. Complessivamente il progetto sembra che abbia avuto una capacità di interesse molto importante in quanto sono state coinvolti oltre 2.000 comuni e speriamo che si possa pure trasformare non una mera sperimentazione ma che possa col tempo diventare un po' più strutturale, interessare un po' tutti i 5.000 comuni italiani nella possibilità di avere questo tipo di formazione e questo tipo di tutoraggio. Speriamo che naturalmente questo intervento possa fare anche un po' da prepista rispetto a tutte le iniziative che il Dipartimento poi realizzera con le risorse del PNRR. Oggi parliamo di innovazione al digitale e quindi della capacità di individuare e proporre soluzioni di trasformazione digitale che sono adatte alle realtà dei piccoli comuni. La difficoltà di trovare competenze richieste da un responsabile alla transizione digitale addirittura sono rare anche in amministrazioni più grandi. Abbiamo difficoltà se sono qui al Dipartimento, figuriamoci nei comuni con meno di 5.000 abitanti. Per compensare questa mancanza il Formez oggi ha messo in costruzione un progetto che è molto interessante e che avrò il piacere di seguire anch'io per cui non tolgo altro tempo ai relatori ma auguro a tutti un buon lavoro e cedo la parola alla dottoressa Fusco. Grazie dottor Salerno, sì allora aspettiamo, eccola, vediamo la dottoressa Fusco, prego, Lelia. Sì, buongiorno a tutti, grazie, grazie dottor Salerno, la presenza del Dipartimento nell'attività del Formez per noi è sempre importante e significativa, è importante perché così condividiamo tutte le scelte e le attività che si mettono in campo. Io per presentare, vi rubo veramente pochissimi minuti perché le colleghe che verranno dopo di me diranno cose molto più interessanti delle mie. Condivido una presentazione, voglio inquadrare diciamo il progetto, l'ambito A verso la transizione digitale, quindi la specifica attività di cui parleremo oggi in quello che è il progetto un po' più ampio, complesso di cui appunto ha anche accennato il dottor Salerno che è fast piccoli comuni, il progetto che si rivolge a tutti i piccoli comuni d'Italia e che ha come, ecco le slide non scorrono come invece, vabbè parlerò così, che appunto diciamo ha come tema fondamentale l'affiancamento appunto ai piccoli comuni sia verso la transizione digitale che il tema di cui parleremo oggi, ma anche appunto quella amministrativa. Ne abbiamo parlato nel webinar di ieri che abbiamo diciamo presentato ieri per i comuni interessati a quella tematica. Vi ricorderete che noi abbiamo fatto una manifestazione di interesse a fine settembre, come diceva appunto il dottor Salerno abbiamo avuto una richiesta molto molto forte, diciamo numerosissime domande, oltre appunto sotto i duemila amministrazioni e abbiamo poi diciamo presentato quelle che sono le, quelle che sono le, diciamo le graduatorie, comunque diciamo l'elenco delle amministrazioni ammesse. L'articolazione diciamo del progetto corrisponde appunto, ecco se puoi andare avanti Gianluca, ok, sono tre quindi gli ambiti diciamo del progetto, parliamo oggi della transizione digitale, ma l'altro tema di cui vi dicevo è la transizione amministrativa, cioè quello di voler appunto accompagnare i comuni nel capire diciamo tutti diciamo i processi nella semplificazione amministrativa e poi abbiamo invece l'altro tema su cui stiamo mettendo in campo una sperimentazione che è il supporto ai piccoli comuni per il miglioramento delle attività amministrative, ma in questo caso stiamo sviluppando una piattaforma che dovrebbe aiutare a facilitare i diciamo i piccoli comuni nel predisporre diciamo i propri atti, la propria attività amministrativa, ma al tempo stesso anche facilitare nel raccogliere diciamo informazioni dedicate proprio per elaborare diciamo tali documentazioni. È una sperimentazione su cui stiamo lavorando con altri 200 piccoli comuni che si sono candidati, si sono tutti interessati a questo ambito. Per questa linea di attività noi abbiamo già cominciato a fine novembre e contiamo nei prossimi mesi di presentare le funzionalità di questa piattaforma che poi speriamo anche di migliorare sulla base diciamo di una condivisione con un numero maggiore dei 200 comuni che ci stanno diciamo aiutando. Oggi quindi invece focalizzeremo l'attenzione verso un ambito che è stato anche molto richiesto dai comuni e quindi noi da progetto abbiamo naturalmente aperto soltanto a 285 comuni perché al momento avevamo questa disponibilità. Contiamo poi eventualmente di rivedere i numeri nel caso appunto di riorganizzazione diciamo del progetto perché effettivamente è un ambito molto interessante ma come diceva il dottor Salerno tutto il tema che abbiamo messo in campo ha mostrato diciamo ha avuto grande riscontro da parte appunto vostra e di tutti i comuni. Io non rubo altro tempo, vi ringrazio di essere presenti e vi do la parola a Gianluca. Grazie Clelia. Allora stiamo procedendo molto spediti e perfetto la vedo già la collega Irene Torrente che adesso ci parlerà delle attività di supporto alla transizione digitale previste in particolare proprio dall'ambito A. Irene aspetto di vedere la tua presentazione e di sentirti in audio. Allora vediamo la presentazione. Sì Irene ti sentiamo? Vediamo la presentazione ancora in modalità Eccoci credo che adesso vediate. Perfetto ti lascio la parola. Grazie. Allora buongiorno a tutti piacere di non di vedervi ma insomma comunque di sapere di sapere che ci siete e insomma penso che avremo modo diciamo nei prossimi mesi di conoscerci più da vicino. Io sono Irene Torrente sono responsabile di una delle attività delle linee di attività del progetto ed in particolare dell'ambito A che appunto è la transizione digitale e diciamo vorrei oggi così raccontarvi brevemente anche se molto è stato già detto dai colleghi che mi hanno preceduto un po' quali saranno eh le nei prossimi mesi le le attività che contiamo diciamo che sono previste dal progetto e che contiamo di portare avanti con voi. Allora eh ritorno insomma così in quanto previsto ma insomma vado vado veloce su questa parte insomma perché è stata già affrontata dal dal collega Salerno perché è un progetto sui piccoli comuni perché ovviamente i piccoli comuni diciamo sono una la base importante del nostro paese sul nel settanta per cento dei comuni italiani sono piccoli cioè sono sotto i cinquemila abitanti nei piccoli si concentra il diciassette per cento della popolazione nazionale insomma che non è poco e e tantissime regioni eh sia al nord che al sud insomma in particolare Piemonte Lombardia ma anche al sud diciamo oltre l'ottanta per cento dei comuni non raggiunge i cinquemila abitanti e appunto coprono diciamo una una buona metà della superficie del nostro territorio. Eh c'è qualche problema però evidentemente come sempre nel senso che poi eh la pubblica amministrazione diciamo è è presente deve essere presente ma diciamo anche ha dei problemi nel senso che il numero medio dei dipendenti è inferiore delle pubbliche amministrazioni locali piccole diciamo è eh inferiore alla media alla media italiana e il 4,8 verso il 5,4 ogni mille abitanti insomma quindi abbastanza diciamo più più bassa e questi sono dati del lanci insomma che sono disponibili in rete. Ehm che cosa pensiamo? Diciamo che eh questa la transizione digitale così come la transizione diciamo amministrativa ma poi diciamo che sono due cose anche molto legate l'una all'altra eh è sicuramente un elemento di democrazia. La dimensione demografica appunto è un fattore critico e perché gli organici abbiamo detto dei dipendenti sono ridotti però ci sono gli stessi compiti e le che hanno i comuni più grandi quindi ovviamente minori possibilità di fare servizi al cittadino e in qualche modo un paese più povero. Eh in questo periodo diciamo ci sono eh tanti progetti e tante risorse che diciamo stanno andando diciamo a a a finanziare queste attività e ovviamente serve diciamo anche una un'abilità insomma nel nel coordinare nel coordinare tutti questi interventi insomma e noi appunto con con il dipartimento insomma che è la la nostra cabina di regia e cercheremo diciamo anche di di coordinarci con gli altri attori che sono in gioco in questo momento. Ehm allora scusate. Oh ehm questa è una una cosa diciamo uno slogan che però è anche poi un un titolo di un libro di cui vi vi presenterò un piccolo pezzetto dopo e che appunto ci dice come dire ci dà il come dire in una in un'immagine diciamo l'importanza ci fa capire l'importanza della digitalizzazione come appunto elemento per diminuire la corruzione e per aumentare la democrazia. Abbiamo visto in questi mesi di mesi anni di lockdown di pandemia eccetera quanto diciamo poi i servizi eh la rete eccetera è stata importante nel consentirci diciamo determinate attività e eh quindi ehm come dire abbiamo toccato con mano diciamo che questo è un elemento che può diciamo promuovere lo sviluppo economico del territorio può eh consentirci di essere come dire più includenti di appunto ridurre le istanze e ehm e di realizzare diciamo i servizi in maniera efficace servizi pubblici importanti e anche diciamo attrarre poi investimenti perché insomma ovviamente tutte le la digitalizzazione la rete il cloud e tutte le altre cose insomma vedremo in particolari diciamo consentono sicuramente diciamo di essere di rendere diciamo i nostri paesi anche più attrattivi anche nella nel ripopolare diciamo i paesi perché sappiamo no perché da tanti piccoli comuni diciamo poi la gente è fuggita per andare in città e cosa si può fare con FAST diciamo appunto abbiamo due due ambiti di attività due due obiettivi nel senso da una parte facilitare la transizione al digitale e quindi facilitare i processi di innovazioni dall'altra accompagnare la transizione digitale quindi da una parte diciamo come dire esservi essere al vostro fianco nel fare le cose dall'altra diciamo eh appunto cercare di di facilitare questi questi processi che sono comunque ormai in in corso e e anche inevitabili in qualche modo inevitabili e bloccate le slide allora interventi di faremo interventi diciamo il mio ambito che è una appunto nell'ambito A è una la linea diciamo un po' più trasversale eh prevede diciamo di eh degli interventi di formazione noi eh diciamo avremo una rete di facilitatori digitali eh che appunto sarà sul territorio e sarà appunto a supporto delle piccole amministrazioni avremo un help desk per orientare i piccoli comuni quindi che dovrà fare un'attività di ascolto di informazione di orientamento a distanza di condivisione anche di documentazione e di eh e di buone pratiche che possano essere diciamo condivise eh tra tutti perché poi spesso diciamo ci sono tanti eh tante cose belle che sono fatte di cui magari diciamo non non abbiamo la percezione non abbiamo conoscenza quindi cercare un po' di di mettere di mettere in rete di mettere a vostra disposizione diciamo tutto quello che è che è possibile che vi può aiutare nel vostro percorso dall'altra anche un osservatorio del software che dovrebbe essere nelle nostre intenzioni un punto di osservazione sul stato dei processi di informatizzazione nei piccoli comuni sulle difficoltà che emergono e sull'implementazione di soluzioni di punto di buone pratiche di riuso e anche diciamo per cercare di dare questo insomma come dire lo faremo anche con le attività di accompagnamento e di formazione diciamo una consapevolezza diciamo sulle sulle scelte perché spesso diciamo come dire manca questa consapevolezza mancano ovviamente le le competenze oppure ovviamente evidentemente insomma come dire non si può sapere di tutto e di più e quindi noi dobbiamo essere un po' diciamo quella rete di supporto perché poi diciamo ecco i piccoli comuni le vostre attività possono possono andare avanti. A seguire diciamo l'altra attività diciamo che faremo è come dire quella di creare con voi dei micro progetti di trasformazione digitale che possono essere anche dei micro progetti come dire piccoli non necessariamente non dobbiamo diciamo cambiare tutto ma insomma dobbiamo cambiare qualche cosa e questa attività diciamo la faremo appunto analizzando la situazione definendo l'intervento mettendo insieme appunto delle idee progettuali e poi rafforzando le competenze anche appunto attraverso il rafforzamento delle competenze è quello su cui appunto crediamo molto diciamo è quello di anche diffondere una maggiore consapevolezza su queste su queste questioni. Gli ambiti di interventi possono essere i più vari diciamo poi i colleghi che parleranno dopo di me la collega Chiappe insomma vi darà diciamo anche un insomma degli esempi però diciamo che ovviamente questi interventi insisteranno diciamo su innanzitutto gli adempimenti il piano triennale per l'informatica la realizzazione dei servizi web la dematerializzazione insomma è tutto quello che ovviamente diciamo verificando i vostri fabbisogni e le necessità e le forze e le forze in campo perché abbiamo detto appunto lo diceva appunto Dottor Salerno anche prima diciamo questo è un elemento determinante quindi avremo da una parte nell'affiancarvi una delle task force territoriali costituite da esperti senior e junior che accompagneranno le diverse fasi di realizzazione dei micro progetti con degli interventi di affiancamento sia a distanza che in presenza degli esperti che diciamo degli esperti più di dominio che presideranno delle competenze tecniche informatiche giuridiche amministrative organizzative diciamo che faranno un po' come dire l'ufficio del responsabile della transizione digitale insomma che potranno in qualche modo darvi una mano ovviamente diciamo tutto questo non lo possiamo fare se non con voi nel senso che non abbiamo scegliamo insomma di lavorare insieme oltre che di darvi una mano perché siete voi diciamo che ci dovrete dovete esprimere diciamo quali sono le necessità le priorità e quindi insieme dovremmo poi mettere in campo i progetti che vogliamo portare avanti vorrei leggervi insomma ma comunque credo di essere nei tempi insomma questo è un augurio diciamo appunto tratto da un da un libro appunto di Paolo Coppola che appunto è stato insomma un amministratore pubblico politico eccetera che ha avuto diciamo anche un grande ruolo nel nella nell'innovazione della pubblica amministrazione nella messa in campo insomma di di alcune riforme e nella premessa ci dice vi leggo la digitalizzazione della piae lo strumento per eccellenza nella nota nella lotta alla corruzione in tutte le sue mille sfaccettature la corruzione prospera nell'opacità mentre una corretta digitalizzazione porta trasparenza la corruzione sfrutta le ambiguità normative e procedimentali mentre una reale digitalizzazione porta alla totale formalizzazione dei procedimenti e la totale formalizzazione dei procedimenti elimina ambiguità e riduce l'arbitrio e l'incertezza la corruzione vive di scarsità di controlli mentre la corretta digitalizzazione permette di potenziarli poiché non solo aumenta la trasparenza ma rende possibile automatizzare alcuni di questi a favore di un controllo totale a monte la lotta per la digitalizzazione della pubblica amministrazione è anche una lotta per l'ugualianza e per la democrazia a fotore a favore di un potere distribuito quindi questo è l'augurio diciamo per noi tutti e vi ringrazio e cedo ecco non so non si vede diciamo volevo ringraziare diciamo tutti i colleghi diciamo del nostro gruppo di lavoro e gli esperti che hanno cominciato già a lavorare con noi però insomma li vedrete nelle slide perché non so qui sono scomparsi questi sono i nostri contatti la c'era la parola alla collega Roberta Chiappe che comincia a raccontarci anzi forse Gianfranco adesso che comincia a raccontarci un po' a che punto a che punto siamo delle attività grazie a tutti perfetto grazie Irene sì allora diamo la parola alla dottoressa Roberta Chiappe e come anticipato Irene ci parlerà delle attività realizzate finora e della distribuzione sul territorio dei 285 comuni che hanno manifestato la propria interesse e che risultano perfetto Roberta adesso vi diamo la tua presentazione ti lascio la parola buon intervento molto bene grazie Gianluca allora buongiorno a tutti eh hanno i i relatori che mi hanno preceduto hanno già anticipato diciamo gran parte delle cose di cui parleremo io insieme a Irene Torrente come vi diceva anche lei siamo responsabili delle attività eh complessivamente dell'ambito A ehm brevemente perché su questo ha già detto Clelia Fusco eh quindi vi ricorderete abbiamo fatto a settembre l'avviso di manifestazione di interesse in cui ehm i comuni venivano anche come dire selezionati sulla base della presenza di alcuni requisiti avete aderito in moltissimi ehm abbiamo a dicembre pubblicato la graduatoria dei comuni ammessi ed anche iniziato a fare un'attività di assessment digitale desk di cui vi parleremo tra poco meglio eh stiamo adesso avviando le vere attività con i comuni quindi questa è la prima attività nella quale finalmente vi vediamo come diceva Irene non vi vediamo ma sappiamo che ci siete ehm e quindi da oggi speriamo di instaurare come dire anche un rapporto proficuo più avanti allora qualche numero quindi eh 663 i comuni candidati come singoli o in aggregazioni perché come sapete uno dei requisiti come dire preferenziali era quello di candidarsi in aggregazione con altri comuni questo perché certamente sarà anche più favorevole più funzionale riuscire a realizzare delle attività con i comuni che già si trovino già stiano in aggregazione con altri ehm quindi però solo 81 dei 285 comuni che alla fine sono stati ammessi solo 81 di questi fanno parte di eh 18 aggregazioni di comuni questa è una mappa di come come si distribuiscono i comuni nelle varie regioni vedete quindi dalla regione che ne ha di più alla la regione che ne ha di meno la regione Puglia ha solo tre comuni ci dispiace che alcune regioni non ci siano per niente ad esempio come la Valle d'Aosta e il Trentino Alto Adige come sapete come come vi abbiamo comunicato anche nelle notizie di pubblicazione della graduatoria ehm erano 285 i comuni che noi potevamo accettare ma se venissero meno alcuni comuni di questa graduatoria eh che alla quale partecipate oggi di questi 285 man mano la graduatoria si scorre in realtà eh abbiamo già scorso la graduatoria perché due dei comuni che erano stati registrati eh come due si sono uniti in un unico comune a fine dicembre quindi siamo stati già felici di poter accogliere un ulteriore comune della regione Emilia Romagna ehm allora ecco chi siete e dove siete dove siete distribuiti quelli che vedete in giallo con il il contorno giallo sono le aggregazioni di comuni quindi effettivamente le aggregazioni non sono molte ce ne sono però soprattutto in Piemonte Lombardia e nelle Marche abbiamo due grossissime aggregazioni di comuni eh siete quindi distribuiti su tutto su tutto il territorio in questo modo ehm allora ancora una volta e quindi non mi dilungherò a dire perché è un progetto che supporta i piccoli comuni nella transizione digitale ehm Irene alla fine delle sue slide la ha parlato di lot in genere si parla di rivoluzione digitale Irene però mi piace molto tanto che abbia parlato di lotta attraverso le parole di Paolo Coppola questa per noi è una sfida eh perché è una sfida ehm non solo perché i piccoli comuni eh sono moltissimi sono la percentuale maggiore dei comuni italiani perché hanno pochi dipendenti è una sfida perché ci sono tantissime iniziative anche di altri soggetti come sapete gran parte di voi partecipa anche alle iniziative all'iniziativa del progetto piccoli di Anci quindi ci sono tante iniziative oggi che si riferiscono ai piccoli comuni quello che abbiamo cercato di fare speriamo di riuscire a trasmettervelo anche oggi in questa in questo incontro è di eh pensare un po' quali possano essere le attività per i piccoli comuni che però non risultino per loro un sovraccarico ora noi passiamo da tra voi ci sono comuni che hanno da un dipendente addirittura in realtà eh ce ne sono che ne hanno mezzo o ieri abbiamo avuto notizia di un comune che avrebbe azzerato addirittura il numero dei dipendenti quindi passiamo da comuni che hanno un dipendente a comuni che ne hanno venticinque quindi è già una platea di per sé eterogenea quello che già hanno detto altre i colleghi prima è che comunque la particolarità dei piccoli comuni è che in realtà loro hanno la stessa complessità di gestione dei servizi per il cittadino che hanno i grandi quindi hanno a partire dalle scuole dai rifiuti dalla gestione tutto gestiscono esattamente le stesse cose ma chiaramente nei piccoli comuni così come nei grandi diceva qualcuno prima anche nelle grandi organizzazioni spesso mancano del tutto le eh competenze digitali che siano proprio che consentano alle persone di eh gestire questa e di portare avanti questa che di fatto è una rivoluzionale digitale quindi quello che cercheremo di fare è quello di ehm anche interfacciarci con voi a partire dalla consapevolezza che ehm voi siete duecentottantacinque eh singoli che avete anche esigenze parecchio diverse quindi si va magari dal piccolo comune che realmente ha pochissimi dipendenti che ha bisogno proprio di essere supportato anche per capire quali sono le cose che deve fare per mettersi in regola ai comuni grandi che invece magari hanno bisogno di strumenti più avanzati quindi come vi dicevo quello che faremo è sicuramente di coordinarci lo stiamo già facendo con i soggetti che hanno iniziative analoghe sul territorio sicuramente con ANCI ma anche ad esempio con le regioni perché gran parte delle regioni noi abbiamo già eh parlato stiamo portando avanti eh con loro eh gran parte delle regioni hanno proprio delle iniziative nella loro nell'agenda digitale che si rivolgono esclusivamente ai piccoli comuni quindi certamente quello che cercheremo di fare è di non sovrapporci ma di affiancarci a queste iniziative e procedere in modo coordinato in modo che per voi non rappresenti appunto l'ennesima attività da fare o l'ennesimo questionario a compilare ehm quindi eh questo è quello che vi dicevo prima quello che faremo è proprio eh in concreto supportarvi nel nel mettervi al passo proprio con gli obblighi previsti dalla normativa del digitale e fare in modo che ancora una volta questi progetti di trasformazione digitale questa rivoluzione digitale abbia in qualche modo successo eh da dove partiamo per farlo? Partiamo da quello che ci racconta adesso il collega Gianfranco Andriola sull'assessment desk che stiamo portando avanti quindi interrompo la mia condivisione ciao 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 a tutti buongiorno grazie Roberta mi prendo solo un istante per condividervi la mia presentazione ecco qui ehm ehm semplicemente per fare un piccolissimo fondo rispetto a quanto già detto Roberta soprattutto c'è stato un passaggio della sua relazione in cui dice che il progetto Fast Ambition non chiedere l'ennesimo questionario l'ennesima eh occasione per sottrarre il vostro tempo alle cose che dovete fare e quindi abbiamo pensato potesse essere utile provare a immaginarci un momento di progettazione che come si dice in gergo data driven cioè basata sui dati che si riescono a reperire in rete sulle attività che già conducete che già avete condotto funzionale ad avere un'idea di come ehm tagliare la progettazione esecutiva del progetto Fast Piccoli Comuni sulle vostre reali esigenze da questo punto di vista abbiamo ehm utilizzato una pratica comune che è quella dell'andare a cercare database già disponibili in rete ed esposti in formato aperto da alcune delle principali organizzazioni di livello nazionale che si occupano di coprire i temi del digitale eh il ministro delle imprese la ragioneria generale lo stato chiaramente l'istat trasformazione digitale agid e in parte anche l'anac su questo brevissimo inciso vi confesso che non sempre è stato facilissimo cioè eh molto spesso si trovano ad esempio l'istat espone dati assolutamente preziosi però a livello eh un po' più alto rispetto al singolo comune e soprattutto da parte nostra era necessario riuscire a trovare dati che fossero che coprissero in maniera puntuale ogni singolo comune italiano ma che soprattutto fossero armonizzati a livello nazionale ci sono molte regioni ad esempio che restituiscono dati su queste tematiche eh ma non lo fanno in maniera ma lo fanno soltanto coprono soltanto come giusto che sia l'area eh di riferimento territoriale invece noi siamo andati a cercare tutte quelle informazioni che potessero ehm arricchire un nostro database di base che parte dall'evidenza dei 285 comuni eh candidati ammessi all'ambito a e sulla base della loro individuazione scoprire un po' di cose a partire da quello che ci raccontano i dati vi racconto davvero molto rapidamente quello che abbiamo scoperto finora ci immaginiamo questo lavoro come in progress cioè una prima eh definizione è quella che eh vi raccontiamo oggi sicuramente avremo modo di di ragionarci eh più avanti considerate che la popolazione residente e qui mi aggancio un po' al primo intervento di oggi che copre eh il progetto FAS piccoli comuni nell'ambito A quindi nei 285 comuni candidati e e questa qui è un numero piuttosto alto soprattutto se lo andate a confrontare con i numeri eh della popolazione residente delle principali città italiane siamo più siamo più vicini a Genova che a Bologna per darvi un'idea quindi il progetto ha un impatto da un punto di vista territoriale da un punto di vista di persone che andranno a beneficiare delle azioni del progetto assolutamente rilevante. Ugualmente siamo andati a eh guardare un po' più da vicino qui vi confesso i dati più aggiornati e più rilevanti che siamo riusciti a trovare sono quelli della ragioneria generale dello Stato che ha uno splendido progetto che la banca dato dati o pensio per dove rilascio tutta una serie di dati in formato aperto e ehm abbiamo trovato il numero di dipendenti risalenti al duemiladiciassette quindi in valore assoluto probabilmente qualche dato è cambiato però in generale questa situazione ci sembra piuttosto verosimile e abbiamo suddiviso i comuni per fasce di abitanti la eh situazione che viene che ci ci restituisce più o meno che i comuni piccoli comuni un po' più grandi cioè tra cinque mila e quattromila più o meno hanno un'organizzazione interna che può contare su un numero superiore ai venticinque a un po' superiore ai venticinque ehm dipendenti si scende invece ai comuni di meno mille abitanti dove il numero è decisamente più esigua siamo quasi meno di cinque decisamente piuttosto basso. Ehm l'ottantadue per cento dei comuni ammessi all'ambito A ha nominato il responsabilità transizional digitale anche qui ritorno sull'intervento di Irene molte delle cose che andremo a fare insieme sono obblighi di legge ad esempio il responsabilità per la transizional digitale è previsto già dalla precedente revisione del CAD anche qui la stragrande maggioranza dei comuni i piccoli comuni candidati all'ambito A ha ehm prodotto la nomina del responsabile della transizional digitale succede che questa cifra scali un po' a seconda arrivando all'uncopertura quasi totale dei comuni più grandi a un'uncopertura intorno all'ottanta per cento di quelli più piccoli. Sappiamo a proposito di PNRR di grandi iniziative nazionali dedicate ai piccoli comuni o quantomeno i comuni in generale che incrociano il tema della transizional digitale che in questo momento siano tutti piuttosto impegnati nella missione uno componente uno del PNRR sono eh sei bandi dedicati alla transizional digitale coprono le parti principali cioè la transizional cloud la piattaforma PND eh l'esperienza del cittadino ai servizi pubblici l'identità digitale le piattaforme di notifica quindi l'adesione alle piattaforme da un lato e la capacità di offrire servizi sulla base di questa adesione dall'altro anche qui siamo andati a vedere i dati resi disponibili dal dipartimento della transizional digitale sappiamo che siete tutti veramente molto molto impegnati su queste attività ehm tutti in totale in questo momento i comuni candidati all'ambito hanno risposto a millequattrocento candidature su questo su questa missione uno su questi sei banditi che vi ho appena raccontato e considerate che in questo caso la cosa interessante che abbiamo rilevato dall'analisi di questi dati che i comuni più piccoli sono molto più dinamici da questo punto di vista probabilmente per questione di assessamento dei bandi non lo so magari è una cosa che potremmo scoprire insieme più avanti però certamente i comuni da duemila a mille e a meno di mille abitanti hanno presentato una larga quantità di bandi considerate che su alcuni di questi bandi è successo che eh il dipartimento della trasformazione digitale li abbia rilanciati più volte nel corso degli anni quindi alcuni di questi bandi hanno due chiamate ed è una cosa che probabilmente arricchisce ancora di più questo numero. Ehm una delle ragioni per cui probabilmente moltissimi dei comuni candidati all'abito A in questo momento hanno già aderito alla piattaforma speed parliamo del novantaquattro per cento di loro e è proprio da far risalire alla disponibilità dei fondi del PNRR. Notiamo però almeno incrociando i dati dell'Agid che al momento nonostante questi comuni come dire abbiano predisposto tutto per far partire dei servizi al digitale in questo momento il settantatré per cento di voi ancora non espone servizi sul proprio sito web per una serie di ragioni che ancora una volta questo è quello che ci dicono i numeri e certamente avremo modo di capire insieme se quali possono essere le necessità da questo fronte e quali possono essere le novità più rilevanti eh da rilanciare attraverso il progetto fast piccoli comuni. Eh torno alla premessa iniziale c'è tutto questo lavoro che ripeto inizia adesso e contiamo di far continuare per tutta la durata del progetto serve innanzitutto a noi per adottare una sorta di logica sartoriale nella progettazione degli interventi cioè vorremmo che partendo da questi database partendo da queste informazioni riuscire a ipotizzare delle azioni di progetto quanto più aderenti a quelle che sono le reali esigenze dei territori. Da questo punto di vista e qui chiudo la mia presentazione ripasso la parola a Roberta l'idea è quella di eh in questo momento ehm far corrispondere alle intuizioni che ci arrivano da questo lavoro di analisi dei dati una serie di micro progetti di biancamati finora cioè dei progetti immediatamente eh calabili sul territorio direttamente tagliati sulle vostre esigenze che possono essere realizzate in tempi brevi e con grande efficacia. Io credo di avervi raccontato tutto. Roberta interrompo la mia condivisione. Roberta ti ripasso la parola. Perfetto grazie molte Gianfranco. Allora riprendo quindi la presentazione. Eccomi. Allora dovremmo riuscire a vedere le presentazioni la presentazione a schermo intero. Ok dovreste vederla. Eh perfetto. Allora quindi ci riagganciamo. Ecco quello che ci come dire che ci interessava molto. Quello di cui ha parlato Gianfranco si rifà proprio a questa attività di assessment desk che stiamo realizzando che abbiamo iniziato a realizzare più o meno anche iniziando nel mese di settembre ma in particolare da dicembre a questa parte. Ehm è quello che abbiamo fatto nel senso che prima di di avere i contatti con voi singolarmente abbiamo pensato di provare a come diceva lui ad avere proprio un'idea sulla base dei dati che si trovano. Questo cosa ci ha consentito? Come diceva Gianfranco di iniziare almeno a ragionare su alcuni temi che possono essere prioritari e poi chiaramente nei contatti che porteranno avanti con voi le task force di cui adesso vi parlerò le task force sulle regioni ehm cercheremo proprio di di fare il match quindi tra questi temi dei microprogetti e poi le vostre le vostre esigenze. Quindi sulla base di quello che ha detto Gianfranco questo è quello che ci è venuto in mente ma è proprio solo un primo panorama. Intanto per i circa cinquanta comuni potrebbe sembrare dall'analisi di Gianfranco sulla base di quei dati che non hanno ancora nominato un RTD. Ci potrebbe essere potrebbe essere di vostro interesse partecipare al microprogetto che riguarda appunto la nomina del responsabile della transizione digitale proprio per consentirvi di mettervi in regola rispetto a questi a questi obblighi e poi individuare chiaramente anche le azioni che un responsabile di transizione digitale debba fare. Eh il secondo questo come vedete il piano di comunicazione di servizi online questo potrebbe essere dedicato a quello che diceva Gianfranco cioè sono circa più di duecento comuni che hanno partecipato al bando esperienza del cittadino e che sicuramente avranno vari servizi online nel prossimi mesi. Quindi fare partecipare al microprogetto sul piano di comunicazione dei servizi online può essere proprio un modo per elaborare il piano di comunicazione e far conoscere le le modalità con cui i cittadini possono accedere ai nuovi servizi comunali. Il terzo è quello sul il terzo tema insomma perché attualmente non sono ancora microprogetti quindi siamo solo al livello di tema e quello sul regolamento comunale per la gestione e l'utilizzo del sito internet e potrebbe essere rivolto a tutte le amministrazioni che stanno rifacendo il sito del comune istituzionale secondo le linee guida agit e quindi questo microprogetto potrebbe avere come obiettivo quello proprio di individuare quali sono le norme da inserire nel regolamento fare uno sviluppo di competenze affiancare il personale che opera sui siti e individuare anche le regole precise da seguire per la pubblicazione delle informazioni. L'ultimo ma direi un po' può essere quello che ci guida nel senso che come sapete è appena stata pubblicata la nuova versione del piano triennale per l'informatica aggiornato e quindi dedicato a tutte le informazioni che devono dotarsi perché come sapete tutte devono dotarsi del piano triennale per l'informatica previsto dal CAD e che non lo hanno ancora quindi si potrebbe proprio realizzare questo il microprogetto che prevede la realizzazione del piano utilizzando chiaramente il format ufficiale di Agit. Questi ripeto sono solo alcuni dei temi e cercheremo di capire poi con voi. Diciamo che l'analisi desk ci ha fornito almeno queste prime informazioni. Però vediamo parliamo in concreto di come si realizzeranno le attività. inizieremo quindi a fare degli incontri preliminari proprio di ascolto delle amministrazioni, faremo interviste, questionari e focus gruppo con il personale, dopodiché i microprogetti saranno coprogettati con voi. Quindi saranno coprogettati con voi in presenza sul territorio attraverso workshop che saranno gestiti da facilitatori. Una volta definito il microprogetto e quindi in dettaglio proprio quali sono gli obiettivi, le attività, qual è l'output previsto nel microprogetto. Tenete conto che noi cercheremo di fare in modo che siano dei microprogetti cantierabili, cioè che a voi diano dei reali benefici. Forniremo quindi durante l'attività il supporto al personale per la realizzazione delle attività, ma anche il supporto operativo è specialistico per il superamento di problematiche che venissero riscontrate. Come vi diceva Irene, anche per questo noi abbiamo un pool di esperti che fanno parte proprio dell'helpdesk, della linea in particolare coordinata da Irene, che quindi potranno intervenire su specifiche problematiche. Chiaramente, non ultimo, durante tutto il progetto ci sarà un accompagnamento on the job, coaching in presenza e a distanza per lo sviluppo delle competenze del personale. Ora, vi voglio parlare però di un'opportunità che molti di voi conoscono, ma non tutti, perché ce ne stiamo accorgendo anche da alcune telefonate informali che stiamo facendo, qualcuno ci chiama e quindi iniziamo a parlare delle attività. Allora, questa è un'opportunità, si chiama Syllabus per le competenze digitali, è un'iniziativa del Dipartimento della Funzione Pubblica e prevede una formazione di base gratuite per tutte le pubbliche amministrazioni per lo sviluppo delle competenze digitali di base di tutti i dipendenti. Quindi parliamo ancora una volta di quelle competenze digitali che non siano del personale ICT, ma siano proprio quelle che devono avere tutti i dipendenti per riuscire in qualche modo a governare la transizione digitale, anche a fornire i nuovi servizi online ai cittadini. Quindi questa iniziativa del Syllabus prevede un'adesione delle amministrazioni e prevede una volta che le amministrazioni, quindi non è un'iniziativa alla quale possono aderire le singole persone, i singoli dipendenti, deve aderire l'amministrazione, una volta che l'amministrazione è aderito tutti i dipendenti segnalati possono partecipare all'attività. L'attività parte con un assessment, quindi una valutazione e un test online sulle competenze che al termine del test si viene orientati quindi sui materiali formativi che sono online e disponibili assolutamente in apprendimento autonomo, quindi si viene orientati ai corsi più adatti a colmare i propri gap di competenza. Tra l'altro questa è un'attività nella quale il Formez, in particolare anche io e Irene abbiamo collaborato fino a questo mese di dicembre, quindi ci sentiamo anche di poter orientare chi avesse bisogno di ulteriori informazioni su questo. Vi dico che già 67 dei 285 comuni FAST partecipano o hanno partecipato a questa iniziativa Syllabus, quindi ci fanno molto piacere perché è un'opportunità di formazione gratuita, assolutamente gestibile anche da comuni che abbiano pochi dipendenti, nel senso che un'attività di formazione si tratta di pillole multimediali della durata di 10 minuti che quindi possono essere fruite in totale autonomia. Al termine vi hanno già detto i colleghi che vi manderemo il link alla registrazione del webinar e queste slide dove quindi qua potete trovare proprio il link copendenzedigitali.gov.it e anche il link al servizio di Helpdesk che potete contattare se volete sapere come la vostra amministrazione possa aderire. Quindi assolutamente è una iniziativa alla quale vi segnalo di partecipare. A questo punto parliamo invece, vi starete chiedendo come lavoreremo. Noi lavoreremo con, dobbiamo lavorare su tutto il territorio nazionale, quindi abbiamo previsto di attivare diverse task force. Nelle task force ci saranno degli esperti senior di transizione digitale, degli esperti di processo e ci saranno dei facilitatori di transizione digitale e dei facilitatori junior. Quindi le task force non sono una per ogni regione ma come vedete in questa cartina le task force riguardano dei blocchi di regione, alcune regioni sono singole, quindi la regione Sardegna, la regione Sicilia ad esempio avranno delle task force che agiscono solo su questa regione per ovvi motivi di insomma raggiungibilità dei territori o anche ad esempio la regione Marche e la regione Lombardia alla quale hanno partecipato moltissimi comuni mentre ci sono altre regioni che sono state aggregate. Quindi una volta che diciamo nei prossimi mesi man mano che avremo le task force, prenderanno i contatti con voi e si faranno i primi incontri sul territorio. Come probabilmente già accennato Irene, prima ci occuperemo adesso intanto di formare, di reclutare, selezionare e formare i 60 facilitatori digitali junior. Quindi questa è un'attività nella quale saremo adesso fortemente impegnati. Prima di lasciarvi, vedo che purtroppo siamo andati un po' lunghi. Allora, come ci lasciamo? Prima di tutto abbiamo pensato di realizzare un primo ciclo di webinar. Queste date che vedete sono da confermare. Noi abbiamo pensato di iniziare con due temi che certamente possono essere più di interesse di una platea ampia. Quindi vorremmo iniziare a parlare proprio dal sistema dell'APA digitale, cercare di capire un po' la digitalizzazione per tutti. Nel senso cerchiamo di capire che digitale non vuole dire competenze informatiche, voi lo sapete benissimo, cercheremo di inquadrare però tutto il processo della transizione digitale e il sistema della pubblica amministrazione. Poi ci piacerebbe però parlare in un secondo webinar un po' dall'altra parte, cioè delle competenze da sviluppare per il cittadino digitale, al quale noi dobbiamo fornire, voi in realtà dovete fornire nuovi servizi. Quindi queste due date sono da confermare. Abbiamo pensato di realizzare questi webinar dopo questi primi due, ne potremo fare uno al mese. Nel corso del primo webinar vi sottoporremo un sondaggio, perché abbiamo pensato dei temi, ma vorremmo capire quali sono quelli che voi preferite. Questi webinar, vi ricordo, hanno sempre durata di un'ora o al massimo un'ora e mezza e saranno sempre registrati, quindi sarà fruibile anche la registrazione in seguito. L'altra attività che ci vedrà fortemente impegnati è questa di assessment digitale. Chiaramente l'attività di cui vi ha parlato Gianfranco è un'attività importante, non potevamo non partire almeno dall'analisi di alcuni dati desk, ma poi per andare avanti con voi dovremmo fare un vero assessment digitale, che serva proprio ad aiutare i comuni, ad aiutarvi ad avere una sorta di bussola, ad avere lo stato della digitalizzazione e avere anche un quadro degli adempimenti rispetto ai quali voi potete mettervi al passo. Quindi questa è un'attività che ci richiederà di lavorare con voi singolarmente. Stiamo organizzando un questionario che però non vi verrà sottoposto semplicemente online, ma la compilazione del questionario sarà comunque assistita dalle task force una volta che le avremo disponibili. Però certamente con voi dovremo partire da un vero assessment digitale dei singoli comuni. Per ultimo, questi sono la prima e l'email alla quale potete scrivere per qualunque informazione o dubbio, mentre il secondo è il sito web a partire dal quale troverete tutte le informazioni sulle attività fatte e da fare del progetto fast. A questo punto io interrompo la mia condivisione, ho finito. Non so se ci siano delle domande e chiedo anche agli altri colleghi magari di comparire in video. Gianluca, dici. Grazie Roberta. Sì, allora intanto siamo nei tempi, c'è qualche domanda, quindi magari scorriamo di qualche minuto, però rispondiamo ad alcune domande che sono arrivate fino a questo punto. Allora, intanto una domanda di carattere generale, in quale ambito temporale si sviluppa il progetto? Clelia, non so se vuoi rispondere tu. Al momento il tempo che noi abbiamo davanti è fino a settembre del 2023, però con il Dipartimento, visto l'interesse, diciamo, e vista la riorganizzazione dei temi, stiamo lavorando anche per andare diciamo oltre questa data, però al momento ci attestiamo a settembre del 2023. Poi chiaramente dipenderà anche dai microprogetti che verranno sviluppati dalle singole amministrazioni, quindi quanto tempo prenderanno, quanto saranno approfonditi, insomma quali saranno le esigenze. Perfetto, e un'altra domanda, sempre forse rivolta più a Roberta, per quanto riguarda i progetti, se è possibile partecipare a più microprogetti? Allora, questa è una cosa che in realtà dovremmo definire, ma certamente io direi di sì. Certo, consideriamo che, come dire, noi abbiamo, siamo tanti perché le task force sono molte, avranno molte persone, ma siamo un numero finito. Quindi diciamo che l'interesse è certamente partire con un'attività, ma sì, trovo che potrete aderire a diversi progetti, soprattutto se i tempi potranno essere più lunghi. Per noi pensare adesso alla scadenza di settembre 2023 è un po', come dire, è un po' limitante, ma al momento dobbiamo fare così. Certamente non vi ho parlato tra l'altro di un'altra attività che il progetto prevede, ma io prevediamo di farla più avanti, che sono dei laboratori di innovazione e si potranno fare con alcuni territori dove le condizioni lo consentano. Quindi potremmo fare molte cose sperando di avere un arco più lungo. Se mi permetti, Roberta, di aggiungere anche, anche, che dipende anche dai temi, no? Se sono temi molto vicini probabilmente sarà possibile poi intrecciarli. Certo, aggiungo anche, diciamo che appunto dipende anche dalle forze che i comuni potranno mettere in campo, nel senso che poi su questo dobbiamo essere anche molto, diciamo, concreti. E quindi noi abbiamo, vi affiancheremo, quindi abbiamo bisogno di lavorare, ma con voi, insomma. Quindi questo, diciamo, è importante da sottolineare, insomma. Però sicuramente poi ci saranno dei progetti e delle cose che si intersecheranno e quindi magari dall'uno nascerà l'altro, insomma. Bene, allora, un'altra domanda a cui in realtà Roberta ha già risposto e anche la collega Anna Rita in chat ha dato alcuni riferimenti come aderire al syllabus, al syllabus competenze digitali per l'APA se vogliamo approfittare per dire qualcos'altro, però avete già tutte le informazioni perché appunto... Possono andare direttamente sul sito, i colleghi, diciamo, c'è un form per la richiesta all'helpdesk, la collega in chat ha già messo il link, diciamo, per partecipare all'iniziativa. Ovviamente ci vuole, diciamo, una presa di responsabilità da parte del referente legale dell'amministrazione, diciamo, ma poi il processo, diciamo, è facile, quindi non ci saranno difficoltà e se ce ne sono ci scrivete, insomma. Perfetto, c'era anche qualche altra domanda, un po' più di dettaglio, per cui le abbiamo raccolte tutte perché saranno comunque utili per le attività che svolgeremo nei prossimi mesi, però se siete d'accordo io mi avvierei alla conclusione per rimanere nell'oretta che ci eravamo dato per questo primo webinar di avvenuto. Per cui invito tutti i relatori, se vogliono intervenire per un commento finale, non saluto e poi mi avvierei veramente alla conclusione di questo primo incontro. Sì, no, volevo, scusate, soltanto sottolineare una cosa che riguardo appunto una persona che ho visto che ha chiesto se possiamo per questo contributo ricevere l'importo da iscrivere a bilancio, come dire, non è questo il progetto, nel senso che il progetto FAST non prevede dei finanziamenti diretti, ma prevede appunto un affiancamento, una consulenza, quindi un supporto per la realizzazione di queste attività, ma non soldi, insomma, quindi così. Vi ringrazio e un saluto a tutti quanti. Grazie, grazie a tutti. Grazie a tutti, arrivederci. Arrivederci. Va bene, allora io ringrazio tutti i relatori e le relatrici e ringrazio tutti i partecipanti, anche abbastanza attivi durante tutto il webinar. Vi ricordo che la registrazione del webinar e le presentazioni vi verranno inviate all'inizio della settimana prossima, via mail riceverete le istruzioni per scaricare le presentazioni e sempre via mail vi forniremo nelle prossime settimane anche indicazioni su come partecipare alle attività che vi anticipa Roberta, dei webinar, eccetera. Grazie a tutti ancora per la partecipazione e buon proseguimento di giornata. Arrivederci. Arrivederci. Grazie. 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 Grazie.